Siamo lieti come comunità e come parrocchia di festeggiare le qualità di servizio della pubblica del nostro guaritorio, la pubblica assistenza e l'Avis, che sono davvero mani spesi al servizio dell'uomo. Gratitudine, emozioni e ricordi hanno permeato la cerimonia del quarantesimo anniversario di fondazione della pubblica assistenza a Croceverde e della sezione Avis di Morfasso. La chiesa parrocchiale si è colorata dell'arancio delle divise dei volontari e delle diverse associazioni, giunte per l'occasione da tutta la provincia, ed è rosso delle magliette dei donatori di sangue che non hanno voluto mancare all'importante appuntamento. Dopo la celebrazione della messa, Stefania Negri, presidente Avis Comunale, e Michela Secchi, presidente della Croceverde, hanno raccontato la storia dei quarant'anni ricordando anche i volontari ed i presidenti che per quattro decenni hanno contribuito a far crescere le due associazioni. Un applauso ed un grazie per il lavoro svolto sono arrivati anche dai rappresentanti provinciali Ampas ed Avis e dal sindaco di Morfasso, che hanno sottolineato il contributo fondamentale ed insostituibile del volontariato, soprattutto nelle piccole comunità come quella Morfassina. È stata quindi la volta della consiglia di diversi riconoscimenti ai soci fondatori, agli ex presidenti e agli enti che hanno aiutato le due organizzazioni a raggiungere un traguardo così significativo. L'evento è poi continuato nella piazza del paese con la cena alla quale hanno partecipato quasi 500 persone, con accompagnamento di musica ed un emozionante taglio della torta, con la immancabile foto di Ricky. Con la sempre perfetta organizzazione della locale Proloco, la serata si è tinta di abbracci multicolori, conditi di allegria e voglia di spensieratezza dopo gli ultimi anni decisamente difficili della pandemia, soprattutto perché si è occupato instancabilmente di soccorrere e aiutare chi ne aveva bisogno. Eccole, abbracciate dal sindico, che sia sicuramente succede alla dottorese che ti proteggono. Sì! Sì! Paolo! Si! che vengono qui per la foto su due mani. Sci le mani! Sci le mani! Sci le mani! Un saluto a tutti, la festa secondo me sta andando procedendo bene e vi ringrazio di cuore a tutti, tutti i volontari, tutte le associazioni, ma soprattutto tutti i nostri cittadini e tutti voi che siete qua presenti questa sera. Grazie di cuore! Perché faremo delle foto bellissime e faremo dei balli tutti insieme, ok?